Una comunicazione a conferma della presenza di chi appartiene ormai ad una dimensione diversa da quella terrena è molto importante, specie quando il dolore della perdita soffia ancora tenacemente. Ma non dobbiamo mai diventare dipendenti dalle comunicazioni, delle quali spesso non riusciamo a comprendere fino in fondo se si tratti di realtà o fantasia. Quando ci rendiamo consapevoli della veridicità della comunicazione, non abbiamo più bisogno di un medium, perché comprendiamo che possiamo essere noi stessi un tramite con il nostro caro trapassato, perché egli, per molto tempo fisico, rimane ancora vicino a noi, dentro di noi, nel nostro respiro, nel nostro sangue, nel nostro vivere. E noi possiamo sentirlo con la meditazione prima e con la preghiera poi.